O come mi diverso a villeggiare, sentire l'aria fresca nel bastino, e come mi diverso a vederse minare, pianti e fiori in questo mio giardino. Ma come posso fare il giardiniere, quanto la mia padrona mi sta vicino, vedendo lei dimentico il mestiere, e come mi succede questa mattina. Io vi saluto, bel giardiniere, tosciavo vostra, bella padrona, Cosa piantate, vorrei sapere, che trone e rape fate avere. O come sentire il giardiniere, mi fa piacere con lui parlare, E quando è buona la mia padrona, mi fa piacere con lui parlare. Giardiniere, ditemi, come va che da una sementa così piccola, crescono fiori e frutti così grossi? Signora, questo viene dalla natura. Solo dalla natura? E un po' pure dal pastanatura. Cos'è questo pastanatore? E' questa cosa che voi vedete, che fa il fugo dove ci va la sementa dentro, avete capito? Mi pare, e ditemi, potrei seminare anche io? Potreste seminare se... Cosa? Se ti avreste, come vi dicevo, un pastanatura. Perché senza questo coso non si può seminare? No, cara signora. Allora me lo preferite voi, anzi, mi farete vedere come devo usarlo. Io? Sì, voi. Ma cara signora, se poi se ne accorge vostro marito ho paura che finisse male. No, ma io non gli dirò niente fino a che non sia cresciuto qualche cosa. Ma voi che cosa volete far crescere, signora? Quello che mio marito fino adesso non è stato capace di far crescere. Ma perché vostro marito? Eppure mio marito ha seminato in uno degli evasi un terzo fiore. Ma nulla se ancora verificato il perché sapesse dirmi, por favore. Forse regattivo alla pementa, oppure non ho saputo ben seminare. Ma datami quel vaso che ho più concetto, e poi vedi di fiori a germogliare. Ma se magari del giardiniere, venisse deco, quello darò. Quando parlare se è il mio mestiere, vaga signora, mi servirò. Oh che sorpresa per il mio marito, quando fiorito il vaso avrà. Oh che sorpresa per il mio marito, quando fiorito il vaso avrà. Oh che sorpresa per il mio marito, quando fiorito il vaso avrà.